ciao e benvenuto benvenuta in questa lezione sui ruoli di amministrazione di uso più comune in cui andremo a vedere la figura dell'amministratore globale quindi del global administrator il global administrator ovviamente viene nominato dall'amministratore dell'account che ha tutti i poteri e come vedi qui non c'è nessuna croce rossa c'è direttamente la freccia gialla e quindi global administrator può operare su tutte le applicazioni quindi può creare un team in teams un sito sharepoint una sezione nel blocco note un piano planner quindi può creare quindi creando tutti questi oggetti può operare quindi andando a scrivere in teams ad organizzare una riunione a creare un post in sharepoint una web part in sharepoint a scrivere una nota nel blocco note ad aggiungere un'attività in planner a creare un form in forms o una presentazione in sway quindi può fare tutto può anche essere amministratore della piattaforma quindi gestendo power b power apps power automate e power virtual agents quindi ha tutti i poteri che a livello concettuale abbiamo visto nella prima lezione quindi quello di operatività di creazione e di condivisione le uniche cose che non può fare altrimenti sarebbe come l'amministratore sono quelle di reimpostazione della password dell'account e di chiusura dell'account ecco queste due cose le può fare soltanto l'amministratore altrimenti perderebbe il controllo sull'account invece avendo questi due poteri che nemmeno il global administrator ha l'amministratore ha il controllo totale perché in qualunque momento può revocare il potere al global administrator e ridurlo a un semplice membro e andando poi a vedere quello che può fare nel dettaglio per quanto riguarda l'ambiente di amministrazione di office 365 poi ovviamente come nelle altre lezioni ci sposteremo nell'interfaccia a vederlo in concreto il global administrator può assegnare ruoli di amministratore ad altre persone può reimpostare le password per tutti gli utenti dell'account può aggiungere domini e gestire tutti i domini dell'account io ne ho solo uno ma un account può avere più domini e può sbloccare un altro amministratore globale ovviamente il fatto che lo possa sbloccare implica anche quello che lo può bloccare quindi andiamo nell'ambiente di amministrazione e vediamo innanzitutto l'assegnazione dei ruoli di amministrazione quindi per assegnare i ruoli di amministrazione si fa come abbiamo visto nelle lezioni precedenti andiamo su un utente clicchiamo qui su gestisci ruoli diciamo che vogliamo assegnare un ruolo di amministrazione a questa persona e andiamo a scegliere il ruolo di amministrazione che vogliamo assegnare torniamo nella diapositiva per andare con ordine reimpostazione delle password per tutti gli utenti quindi andiamo a vedere come se si reimposta la password prendiamo sempre quest'utente clicco qui su reimpostare la password quindi qui clicco anche su inviami tramite email le informazioni di accesso quindi qui andrò a scrivere l'indirizzo di posta elettronica della persona a cui voglio cambiare la password verrà creata una password automatica e al primo accesso come quando questa persona ha fatto il primo accesso all'organizzazione dovrà rifare questo accesso con le credenziali provvisorie che le arriveranno su questa mail ora io non vado a spedire niente andiamo a vedere l'altro punto aggiungere e gestire domini quindi l'aggiunta e la gestione dei domini si fa dall'ambiente di impostazioni che andiamo subito a cercare quindi impostazioni domini e da qui si vedono tutti i domini dell'account ora io come ho detto precedentemente ne ho soltanto uno si può aggiungere un dominio ma ovviamente prima di aggiungerlo lo devo acquistare e quindi dovrò cliccare qui su acquista dominio sceglierò il nome del mio dominio il contatto il metodo di pagamento poi invierò l'ordine a microsoft come ho fatto quando ho acquistato il primo dominio quindi sceglierò il nome da anteporre alla chiocciola e manca l'ultimo punto l'ultimo punto che è quello di sbloccare un altro amministratore vediamo come si fa quindi andiamo qui andiamo sempre in utenti attivi e supponiamo che a questa persona brigitte duran abbiamo assegnato il ruolo di amministratore globale quindi andiamo ad attribuire il ruolo di amministratore globale a questa persona amministratore globale salva le modifiche ecco questa persona ora è amministratore globale è stata nominata da me che sono amministratori quindi se per qualsiasi motivo perché non mi fido più di questa persona perché ci sono stati degli accessi sospetti o per qualsiasi altro motivo io voglia farlo posso andare a bloccare questa persona quindi posso bloccare questo global administrator quindi posso bloccare anche un altro amministratore posso bloccare ovviamente anche un altro amministratore di tipo diverso dal global administrator qui vado a salvare le modifiche e come si potrà vedere ora se io rientro sul nome di questa persona sulla sua scheda qui troverò accesso bloccato e ovviamente in quanto amministratore globale ora io sono anche di più dell'amministratore globale potrò sbloccare l'accesso tolgo la spunta salvo le modifiche e quindi se ritorno sul nome di questa persona non ci sarà più scritto accesso bloccato ora io anche in questo caso vado a togliere il ruolo di amministratore globale per non farmi bloccare nelle lezioni successive quindi abbiamo visto anche questo ruolo importantissimo dell'amministratore globale perché l'amministratore globale poi potrà gestire anche altri tipi di amministratori oltre ai domini altri aspetti importanti come abbiamo visto e nella prossima lezione come al solito andremo avanti con un'altra figura di amministratore ti aspetto quindi alla prossima lezione ciao